Di nuovo in diretta quando mancano 23 minuti il termine della nostra traduzione Buongiorno a tutti, auguri di buon compleanno ad Alida, da Maria la Marocchina E poi c'è un... ti ricordi Maria la Marocchina? Come no, come no Auguri per Alida e bravo, bravissimo Brancatelli per la sua cucina Torneremo fra un attimo da Gianni Brancatelli che concluderà E ci tornerà a spiegare che cosa ho preparato quest'oggi Questi gnocchi, patate, gorgonzole, noci che ho già assaggiato senza noci E che insomma sono già agitato per i sapori che andremo a sentire E' vero, intanto Alida questa è un'altra novità Sì, una canzone anche di quelle che fanno discutere Diciamo ma sai che a me piace insomma così mettermi in gioco Assolutamente Una canzone che il tema è sulla legittima difesa Ecco io in questo senso io riguardo questo tema io la vedo in questo modo So che siamo in problema di cucina, musica però No, no, c'è Attraverso una canzone passa meglio il messaggio che sta lì tanti bla 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 di tanti politici Io la vedo così Se un ladro viene a rubare in casa tua non solo fa l'azione di rubare ma anche una premeditazione Quindi secondo me deve essere messo in galera Mi ha buttato poi via la chiave Perché deve anche mettere in gioco che può anche uscire steso Insomma invece quello che viene derubato si viene preso così dalla paura, dall'angoscia E quindi può anche sparare quindi se uno ha un porto d'arma insomma così non si può ragionare lucidamente Durante la notte mentre vedi ti trovi un ladro in casa mentre invece il ladro lucidamente ha pensato di venire a rubare a casa tua Di conseguenza lo deve mettere appunto anche in conto che può uscire steso e io la vedo così insomma Quindi io non mi arrenderò Io mi difenderò Io mi difenderò Io non mi arrenderò Io mi difenderò ma credo che incontri il favore di tutti coloro che ci stanno ascoltando Poi magari sai avere delle armi in casa può essere anche rischioso perché uno ci sente autorizzato a sparare a chiunque Quindi magari per evitare il far west magari le leggi diventano un pochino più Però io penso che uno insomma uno deve difendersi No ma soprattutto quando uno si difende magari crea del danno al ladro sei tu che vai in casino attraverso pulizioni No risarcimento addirittura Risarcimento addirittura ecco questo non ci non va bene Il paradosso della cosa assurda insomma Allora io mi difenderò Alida Ferrarese un'altra canzone dal contenuto sociale Prego Strane ombre nella notte che si aggirano per casa Mentre ancora stai dormendo sono lì davanti a te Sono urla e sono botte se non han trovato niente E tu sai che un delinquente ha la legge dalla sua Ma se lo Stato non c'è Io mi difendo da me Io mi difenderò E da oggi fino in fondo lo farò Sì io proteggerò La famiglia, la mia casa e quel che ho Io mi difenderò La condanna per accesso Di legittima difesa Poi ti sbattono in galera Che giustizia Che giustizia è questa qua Che giustizia è questa qua E per giunta e quel bastardo Riconosco E per giustizia è questa qua Che giustizia è questa qua Che giustizia è questa qua E da oggi fino in fondo lo farò Sì io proteggerò La famiglia e la mia casa e quel che ho Io mi difenderò l'altra guancia, un ladro non la porgerò. Se entra in casa mia, prenderò la mira e poi sia quel che sia, io mi dipenderò, io mi dipenderò. Io mi dipenderò, l'altra guancia, un ladro non la porgerò. Se entra in casa mia, prenderò la mira e poi sia quel che sia, io mi dipenderò, io mi dipenderò. Io mi dipenderò, si mi dipenderò. Alida, complimenti, complimenti Alida. Insomma, vieni qua con noi, dai, perché c'è la torta per te. No, io mi dipenderò. Devo dire una canzone bella pesante, nel senso che è un invito quasi a proteggere la famiglia, cosa che in questo momento magari sta diventando un po' complicato. A chi non è capitato di avere dei ladri in casa, vero? È successo anche a tutti e tre. Ecco, quindi qua siamo in tre, Luca, allora lasciate stare, Luca, che ancora... Dategli prima la casa e poi dopo si provvede da quei lati, un attimo. No, però qua siamo in tre, tutti e tre abbiamo ricevuto le visite. Quindi, devo dire che, insomma, questo argomento è molto attuale. Gianni, adesso ti lascio il compito. No, adesso, cioè, la raccontiamo ma la tagliamo dopo, perché è molto calda, non riesco neanche a tirare via la carta da sotto. Scusami, ma purtroppo i tempi tra i visite sono quelli che sono. L'abbiamo terminata con un pochino di zucchero a velo e un po' di granella di nocciola. Bella, terminata così, però ci spieghi come hai fatto... Guscio di pasta frolla, all'interno abbiamo sbriciolato degli amaretti per renderla un po' più impermeabile. La nostra frutta che aveva a disposizione, quindi delle pere conference, delle susine e qualche bacchetta di zucca, l'ho saltata in padella con dello zucchero, della cannella e del vino rosso. Perfetto, questa è la torta che hai preparato proprio così, a passare, al volo, così. Ricordatelo, cioè ricordate, il prossimo ospite compleanno mandi un sms. Allora, la mettiamo qua, la mettiamo qua e così dopo la lasciamo qua fino alla fine. Intanto prepariamo i gnocchi. Prepariamo i gnocchi, poi faremo un brindisi finale e farò spegnere la candelina che non abbiamo, useremo un accendino. Una candelina virtuale useremo, intanto vediamo il vino. Allora, il vino, io ovviamente con la torta, se necessita di vino, useremo lo stesso vino, tra l'altro amabile, con cui abbiamo saltato la nostra frutta, per quella regola del vino su vino. Abbiamo usato il Coda Rossa. Coda Rossa delle cantine riunite, prodotto da, però, vediamo quale cantina, al Binea Canali. Al Binea Canali, quindi, però, 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 però ci vuole un, eh, il botto lo vogliamo. Certo che il botto lo vogliamo. Abbiamo un bel prosecco maschio, non è bene cosa ha dato questa la ricerca a loro. Assolutamente, il maschio dei cavalieri. Molto buono, eccetera, eccetera. E secondo me con la gnocchetta la gorgonzola regge bene. Sì, sì, perché forse l'aromaticità del gorgonzola, datevi la linea, se lo prende anche il capodista. Sì, sì, fa la terra. Allora, no, però dobbiamo ancora preparare i gnocchi, che si dice così. Intanto ascoltiamo questa telefonata. Vieni qua, Lida, che se no ci copriamo. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? Sì, con chi parliamo? Con la Paola. Ciao Paola, dimmi tutto. Allora, mio marito insegnava da piccola la bambina che la mamma è l'angelo della casa. Eh, vabbè, ho capito. E quindi questo a quale... Ho capito? Sì, per quale motivo dici questa cosa? Che la mamma è l'angelo della casa. Lo so. Che la moglie è l'angelo della casa. Sì, sì, ho capito. Perché prima abbiamo detto che le donne non fanno più da mangiare. Eh, vabbè, no, ma... Con la donne! No, ma facevamo per scherzare, Fino, cioè, non... Grazie! Prego, ciao. No, vedi, difendiamo l'angelo della casa. Dobbiamo difendere questo... Sai che inneschi dei gineprai quando fai queste sessioni sessiste. Adesso non perché hanno eletto Trump e ti puoi permettere di fermar male. Che qua temina non siamo mica d'America. Fai attenzione. No, hai ragione. C'ho anche la cravatta alla Trump. Eh, eh, eh. Vabbè. Il tuffo biondo. C'è qualcuno che ha un gatto biondo dall'aglio con la coda. Allora, gnocchi. L'acqua molto abbondante, molto abbondante. Li buttiamo giù pochi alla volta. Non fate l'errore di buttare giù i gnocchi tutti insieme perché vi diventa un, come dice, un famoso chef romagnolo, un mappazzone incredibile. Quindi cosa fate? Siccome cuociono velocemente, se ne dobbiamo fare tanti, portate a ebollizione. Vedete, vengono a galla, li scolate, poi dopo acqua di ebollizione ricalate la seconda postura di gnocchi. Ah, che bello. Ok? Perché se no, perché se no si ammassano. C'è sempre da imparare qua, Lida. Abbiamo fatto la nostra, vedi, base di... Intanto ci facciamo, ci facciamo un selfie. Eh, ecco qua. Ecco qua. Allora, abbiamo tritato grossolanamente le nostre noci. Come tutta la frutta secca, la scaldiamo appena appena. Se mi piace facciamo tostare. Tostate. Le noci però, devo dire la verità, forse lo mandorle, forse lo nocciolo, le tosterei bene. Le noci le scaldo. Perché, questo perché? Perché gli oli essenziali, cioè la parte aromatica è contenuta dell'olio essenziale. Scaldandolo faccio poi uscire ancora di più profumi. Non le tosto perché sono diventato troppo amare. Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Pronto, buongiorno. Buongiorno, che si va in età, l'altro bene. Io telefono da moglie, di Mantua. Ah beh, allora, più mantuvano che Veneto. Ciao, come ti chiami? Ti chiamo Maria. Maria. Ciao, la Maria. Anche questa, la sbrisolone va da dio, eh. Ciao Maria. Ciao Alida. Inquadriamo Gianni cosa sta facendo, mentre noi parliamo pure il telefono cosa sta facendo il nostro Gianni. Maria, è vero che fai una sbrisolone buona? Eh, insomma. Insomma. Alla Lida piace molto. Sì, sì, sì. E vedi, alla Lida non piace cucinare, ma piace come me assaggiare. A mangiarla. A mangiarla. Ma quando sei sul palco, insomma, chissà quante cose ti avranno portato. Sì, sì, sì. E avercene veramente. È sempre piacere, sai, salami, formaggi, tortellini. Ho sbagliato bestiello. Dovevi fare il cantante, dovevi fare Gianni. Va bene. Ciao, ciao Maria. Amica. Sì. Voglio farti i miei auguri. Grazie. Il mio anno è il compleanno. Grazie, Maria. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, buona giornata, Maria. Ciao, Maria. Allora, chiedo il cucchiaio di panna. Adesso li facciamo legare. Ho aggiunto un pochino di acqua. Li facciamo legare. Volevo dare la seconda, diciamo, sbadilata degli occhi per rendere un pochino più abbondanti. Nel frattempo, se ti chiedo la cortesia di aprire il vino. Assolutamente sì. Ecco, Lida ha una brutta pagella questa. Il ragazzo quando apre il vino, l'ultima volta. Sì, ma c'è un pochino di richiarronne. No, ma questo è freddo. No, poi, sai, non erano vini. Sono quelli che fanno direttamente il contadino, che li imbottigliano così come vengono. Poi alla fine non si capisce da che parte, insomma, possiamo fare il... No, non va mai fatto, però io mi diverto a fare questa cosa, perché dobbiamo cercare, una volta solo ci siamo riusciti, ad arrivare di là della scenografia. Della scenografia, opero, opero. È un tentativo, ci proviamo, stavolta colpiremo... Chi colpiremo? Non ci viene il maschio delle cantine. No, ce l'abbiamo fatto. È rimbalzato su una trave, però stava andando di là, eh. Perfetto, vedi, avevo rivolto in là. Ecco, una cortesia. Gianni, dacci il segno della tua ancora presenza, eh, perché non si è arrivato in regia direttamente. Ecco, allora, questo è un bicchiere. Qui abbiamo... Ha fatto traverso. Ha fatto traverso, esatto. Come ieri Belotti. Sai che adesso si usa il giudice, quello di... Che sta nel... Come si chiama? Nel camper, con tutta la regia. Ah, il VRA, come si chiama, Luca? VRA, questa nuova tecnologia per l'eramo viola. VRA, credo che si chiama. Cosa fa nel camper? Secondo me si fa due scatole così, con il sonnellino. Perché poi ieri, adesso per carità, era Italia-Gervania edulcorata, eh. Sì, certo, no, c'era un amichevole, no. Esatto, un amichevole. Non c'erano tutti quanti i giocatori principali. Noi abbiamo fatto una prestazione ai limiti della decenza. Adesso andarla a osannare così... No, vabbè, è chiaro. Eh, così come quando... Beh, però dai, anche recentemente gli europei, non è che abbiamo sfigurato, abbiamo perso i calci di rigore, perché ci sono stati due giocatori che hanno voluto fare i pirlo, i fenomeni. Non i pirlo. Non i pirlo, no, i pirlo. Il pirlo lo tirava dentro. Allora, ho bisogno di un cucchiaio. Ma va bene anche quello di legno, guarda, grazie. Va bene anche quello di legno, questo qua. Questo di plastica è lo stesso. L'andiamo a impiattare. L'impiattiamo in maniera abbastanza casalinga. E qua non usiamo il coppapasta che si potrebbe usare per fare un piatto un pochino più... Ecco qui. Sì, adesso qua, vedi, io sono già... Ecco, in pole position. Pole position. Qui terminiamo. Prendiamo due piatti per un assaggio? Ti va di assaggiarli? Sì, 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 gli assaggio. Gli occhi sono atomici, te lo dico io perché li ho mangiati sabato e li avremo mangiati. Allora, facciamo così. Facciamo un pochino di spazio qui e mettiamo... Mettiamo avanti i bicchieri. Dopo li andremo a prendere perché... Esatto. Perché col dolce dopo faremo un assaggino un po' per uno. Caccio. Esatto. Al centro il bignocchio, attenzione volete. Ti lascio questo forchetto lì da se vuoi assaggiare... Assaggiati senza noci, come voleva continuare a mangiare senza noci, no? Compulsivo, è compulsivo. Allora, io sento questo gnocco. Il cui pesto è fatto con... L'impasto è stato fatto con patate e zucca. Buonissimi. Sono una cosa veramente deliziosa. Sì, che sono buoni. Poi, diciamo che si prestano bene, sono buoni anche soltanto di patate, però si presta bene l'abbinamento zucca-gorgonzola perché il dolce della zucca smorsa un pochino la fungenza. Infatti sono molto equilibrati, cioè non c'è dei sapori che prevalgono. Ecco, magari se volete così tentare invece che le noci, se non vi piacciono le noci, se non avete le noci, eccetera, mi hanno detto anche dei semi di papavero, dei semi di sesamo, che a quel punto tosteremo e useremo come ulteriore guarnizione al sopra. Io li mangio tutti. Sono qua. Anche perché se non li mangi tu, li mangio a fuggio. Qualora consigli il vino amabile? No, il vino amabile con il dolce. No, il prosecco. Andiamo col prosecco. Vediamo se... Andiamo col prosecco. Allora, adesso facciamo. Gianni, mi cerchi una musichetta su YouTube di tanti auguri perché noi non eravamo proprio preparati. Non eravamo proprio preparati. Ma te ne metti me la canto io. tanti auguri a me, tanti auguri a me, tanti auguri a Lida, tanti auguri a me. Allora, Lida, spegni. Auguri! Auguri, Lida. Questa è la torta che ha preparato il nostro Gianni Brancatelli. Se ce la fai, ritengiamo un pezzo anche prima della fine e beviamo alla tua salute. Alla nostra. Allora, da Lida che quest'oggi ci ha fatto l'onore e il piacere di venire a festeggiare il suo compleanno insieme a noi. Alla tua, Lida. Grazie a voi. Come si dice in questi casi, 100 di questi giorni. Assolutamente. Ci sono anche un po' troppi, dai. No, no, ci contentiamo anche della metà. Esatto, 50 di questi giorni. Tutte quelle necessarie. Grazie. Ottimo anche questo prosecco. E senti che con gli gnocchi ci sta, eh? Ci sta, sì, hai ragione. Allora, finisco questi due perché proprio... Ancora io. ...perciarli lì. Un peccato, dai. Io passo un attimo... È un'offesa al cuoco? Cuori... Dove vai? A tagliare la torta. A pentare e tagliare la torta. Perché è ancora troppo calda. È bella calda, è bella calda. A te, tanti auguri a vita. Tanti auguri per te, tanti auguri a papà, tanti auguri a mamma. Tanti auguri a tutti, giorni lieti così. Ah beh, io questa giorni lieti così non l'avevo mai sentita. Comunque va bene. Beh, mi piacciono gli gnocchi. No, 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 sono squisiti. Aspetta che arrivo anche qua perché, cioè... Uno, come si dice, tira l'altro. C'è un po' come le ciliegie, tu dici? Esatto. Va bene che c'è un ingegno di spalle. Eh, lo so. Gianni, no, vabbè, non è un problema, dai. Gianni. Gianni, lo vediamo talmente. Ah, così vediamo il lato scuro della forza. Beh, detto così sembra una cosa brutta. Allora, no, cambiate la forchetta perché... Certo. Ho ripiuto di venire mangiare una torta con quella di gorgonzola. Esatto, hai ragione. Diti, qui la forchetta ce l'ho. Se l'hai una pulita lì? Per lei sì. Io una l'abbiamo trovata. Guarda, io uso un cucchiaio. Uso un cucchiaio che ho trovato... Io vado, eh. Sarà poco dolce perché comunque intanto zucchero non ce l'abbiamo messo. Beh, però... Beh, ti dirò che... Beh, e poi tutto sommato è anche più leggera di un tortone pieno di... Esatto, non è... Assolutamente, assolutamente molto più leggera. Sì, sì, ma c'è un bel abbinamento, si sente giusto il sapore della frutta che gli dà... Esatto. Spera che poi ci rendi il pescettino con la zucca. Gianni, cioè, ma cosa devo fare? Cioè, ma io se fossi Donald Trump ti assumerei come cuoco personale alla Casa Bianca. Non so se sia una qualifica molto... No, vabbè, allora se... Se non altro se le cameriere le sceglie lui... Va bene, ci viene a fare un giro anche tu. No, tanto per dire, se avessi una grossa disponibilità economica da potermi permettermi un cuoco in casa... Detta così, chissà quella gente a casa cosa pensa che guadagno io. Ebbè, certo, è un cuoco, è giusto il tuo lavoro, la tua professionalità, va ripagata ed è giusto così. Sì, tra l'altro tu sei impegnato in mille situazioni, ti vedo. Adesso mi stavi dicendo che aprirai un nuovo ristorante a Reggio. Sarà un... Un'altra bottega italiana, diciamo. Un'altra bottega italiana, la bottega italiana, se volete andare a visitare... Scusate. È la censura, perché stavi scivolando sulla pubblicità dalla regia... Non sai, a far mangiare a volte, a volte, vedi, devi respirare, a volte qualche granello di qualcosa ti può finire... Di traverso. Invece che nell'esopago ti va in un'altra... Allora, no, stavo dicendo che è sempre impegnato nel produrre dei piatti veramente particolari, se avete voglia, andatelo a trovare mezzogiorno e sera alla bottega italiana, perché... Veramente, ci sono dei menù diversi tutti i giorni, il sabato, quando sono venuto lì da te, ho detto... Ma cosa mi dico? Questa cosa, gnocchi, gorgonzoli e zucca, mi stuzzica. Sono esagerati. È vero. Adesso però, onore del vero, non li ho preparati io, quindi che maggiorno, infatti mia moglie che lei è in cucina, quindi... Ma la ricetta chi gliela ha dato? Lei, lei, la ricetta è sua, di questi gnocchi... Vabbè, insomma, viene sempre nella tua famiglia. Solutamente, sì. Ah, ma lì, da te... Io intanto voglio chiacchierare, io mangio... Beh, insomma, è un bel modo, credo, per... Dò sua espassione, Gianni, ha fatto una torta per me. Il comprimetto più bello è proprio quello. Infatti, è una torta improvvisata che alla fine risulta veramente... Poi questo, guarda, questa mezza pera, facciamo così. La mangi così? La mezza pera, eh? Buonissima. Buonissima, con l'ambrusco? Beh, è una bella abbinamento, mi lanciava l'acidità. Vedrai quanto ci rimane fra un po' qua. Allora, caro Gianni, io ti ringrazio. Grazie a voi. Grazie per averci proposto, come al solito, qualcosa di particolarmente, insomma, appetibile e gustoso e soprattutto farta... Perché noi siamo poi abituati, vero, lì, da mangiare quello che ci capita. Quando troviamo degli abbinamenti di questo tipo... Con una certa arte, insomma. Con una certa arte. Per due gnocchetti. Vabbè, adesso due gnocchetti. Per me è una cosa nuova e particolarmente gradita. Ringrazio Lida Ferraresa, la quale... La settimana, adesso a voi. Faccio ancora gli auguri di buon compleanno, perché è stata con noi tutta mattina. Si è alzata alle sette e mezza da Polesella a Rovigo per venire qua da noi il giorno del giorno del compleanno. Sì, dico, dai, oggi e quest'anno facciamo una cosa diversa. Anziché stare a casa e ricevere gli auguri, bla bla, inseduti in poltrona, vado direttamente. Hai fatto bene. Grazie. Auguri. Auguri. Grazie a voi, ciao Gianni, grazie. A tutti quanta di questi giorni, anche a Gianni Brancatelli, noi ringraziamo Luca Fornaciari alle camere, Gianni Barigazzi e Stefano Rovacchi in regia, Cinzia Cattini in segreteria. Questo era lo staff di Ciao Mama di quest'oggi con Gianni Brancatelli e Alida Ferrerese. Domani insieme con Omar Lambertini e Didi Vox e Daniela. Grazie per essere stati con noi. A domani. Ciao Alida. Ciao.